Noi la squadra la facciamo, voi dovete essere presenti allo stadio, gli assenti hanno sempre torto. L'ottito in mezzo a Roma sono stati chiari dopo l'investimento per riportare la Salernitana. I Salernitani adesso si aspettano un numero elevato di abbonamenti. Insomma un atto d'amore da parte dei tifosi, soprattutto da parte di coloro che in questi mesi hanno costantemente sollecitato la proprietà a riportare la denominazione, il marchio e i colori della vecchia Salernitana. E la Salernitana adesso è tornata e riempire la Rechi diventa il desiderio della proprietà. Fonti romane parlano di una più che probabile partecipazione della squadra Granata al campionato di prima divisione, indipendentemente dall'eventuale possibile riforma in Lega Pro.